Io vengo dal Trentino, esattamente proprio da Trento, sono cittadina. Il viaggio sta andando benissimo, è proprio un percorso, un percorso in una terra che non avevo mai avuto modo di conoscere. Mi sta andando particolarmente bene, soprattutto perché onestamente ci sei tu, ma nel senso che c'è una guida appassionata che trasmette questa passione. Passeggiare, camminare in questa realtà mi dà veramente la possibilità di fare un viaggio diverso, un viaggio veramente molto particolare. Questi colori appunto vengono molto accentuati da questa luce, tra l'altro io non sono l'esperta, però mi sembra veramente particolare. Penso che se uno fosse fotografico e fittore lo noterebbe ancora di più. Il valore veramente particolare, direi unico, di questo viaggio è stato proprio il fatto di farlo con una compagnia, con una compagnia, ripeto, mi sembra di andare per mano con… Sì, 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 è emozionantissima. Ci troveremo, è vero. Ci troveremo a parlare. Grazie.